Buonasera signore e signori, questa sera io sarò la voce dei pensieri di un giovane e grande artista, Filippo Grassi. Filippo è stato l'ideatore e il realizzatore di tutta quest'opera, di questo lavoro, dai testi alla musica, è scritto a tutta lui, tranne un piccolo omaggio, un grande, a Neu Morricone, che poi ci sarà un brano, il quale ha avuto l'idea di fare un preziosissimo arrangiamento. Filippo Grassi è riuscito a mettere insieme un fulcro, un nucleo, circondandosi di artisti non solo maestri suoi, artisti di altissimo livello. Spero che sia un buon ascolto. Iniziamo. Bacchereto Mut, brano per sassofono soprano, sassofono tenue, chitarra elettrica. Un paese, la sua storia, le sue feste, la sua vita, i suoi abitanti. Bacchereto Mut, brano per sassofono. 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 Bacchereto Mut, brano per sassofono.